Zoe, oggi giocheremo a Roblox, ma dobbiamo costruire una barca, pronta? Oh, sì, sono prontissima! Allora, io stavo provando... Cosa? Che cosa? Aspetta, prima di tutto vai sul menu e compriamo la cassa quella verde che ci dà più blocchi, sì! Ok, vai! Fatto! Oppala! Oh, bello! Così abbiamo più blocchi da costruire, buona! Brava, Zoe! Ok! Hai visto? E adesso utilizziamo ovviamente questi blocchi a nostro vantaggio! Vediamo! Oh, guarda, è come Minecraft, tu puoi praticamente costruire le cose! Però vedi che abbiamo davvero poca roba, quindi facciamo una barca pratica! Sì, hai ragione, facciamo un cubo! Vai, quanto grande lo vuoi fare che non abbiamo blocchi? Vero! Come si fanno i blocchi, scusa? Eh, devi vincere! Cosa? Quindi praticamente dobbiamo andare avanti in agosto cosa, al momento! Già! Oh mio Dio! Aspetta, eh... Facciamo così, usiamo un tavolino! Certo, usiamo cosa è caso! Un blocco di roba! E poi una serie di gaming qua! Sì! Vai, anche io, anche la mia! Sì! Sì! E poi per fare più roba mettiamo altre serie! Esatto! Bene, così! E secondo me funziona, pronta? Andiamo! Vai! Oh! Do-do-do-do-do! Do-do-do-do! Do-do-do-do-do! Do-do-do-do-do! Ah, ma posso... Con il motore posso, diciamo, muoverla! Ah, davvero? Puoi farlo tu? Oddio! Però non dobbiamo trovare il tesoro, noi? Eh, sì! Sì, ma è un po' difficile! Oh, no! Allora! Ok, non dobbiamo prendere i massi! Oh! Oh, oh! Oh! No, 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 no! Zoe, Zoe, Zoe! Oddio! Ah, tranquillo! Che sono la migliore io! Ma che fortuna! Sono... Ah! Che cosa stavi dicendo? Piano, piano! Piano! Ok, piano, eh! Ma si scena! Ma perché si è girata sola? Oh, si sta roppendo! Si sta roppendo, Zoe! Vai, dai, vai, dai! Go, 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 go! Vai, dai! No, go, go, go! Ma perché fa da solo? Allora, vai a destra, vai a destra, vai a destra, vai a destra! Brava, brava, brava! Ottio, brava! Così! Oh, palazzo! Oh! Oh! Funziona, funziona! Ma dov'è il tesoro? Non lo vedo io! È il tesoro... Il tesoro è un po' più avanti! Vedi, a destra dobbiamo arrivare... Dobbiamo superare tutte quelle cose! Ah, ora vi dà bene, però, vero? Sì! Ok, oddio, 3-1... Oh, che fortuna! Oddio, ma che figata! Siamo in una sala arcade! A te... No, no! Che cacchio! Ma non vale! No, siamo rimasti con quattro blocchi... Tre blocchi! No, siamo morti! Però siamo andati un botto avanti, eh! Sì! Porca miseria! Ok, e ci dà un po' di soldini! Ah, finalmente con i soldini noi andiamo a comprare i blocchi, giusto? Sì! Eh, però prendiamo la cassa più figa, perché quella là ci dava solo due blocchi e non era niente! Ok, va bene, come dici tu! Allora, quindi... L'uncommon! L'uncommon! Va bene! Compra! Eeeh! Oh! Ho trovato due blocchi! Eh, già dopo più roba! Ok! Ma, scusa, ma io vedo due blocchi! Due blocchi sono tanti, secondo te! Ma ti ho detto di prendere quella gialla! No, tu tu mi hai detto l'uncommon! Appunto, non la common! Uncommon! E ho preso l'uncommon! Quella gialla! Sì, sì! E vabbè, sempre più blocchi abbiamo! Sta zitto! Abbiamo otto blocchi! Zio, abbiamo niente! Sì, 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 sì! No, Zio, non va bene! Dobbiamo shoppare! Penso a Cito sbrio, non shop! Shop! Eccolo qua! Oh, aspetta che c'ho dei blocchi qua che non voglio avere! Ok, bene! Ah, ok! Ecco! Allora, forever per due! Che significa forever per due? Non lo so! Ah, che ci dà il per due ogni volta che prendiamo qualcosa! Vabbè, a me basta in realtà! Praticamente sbrio ogni blocco! 1050 vanno bene! I soldini? Penso di sì, penso di sì! Ok, compra! Ok, facciamo questo shop! Ecco, fatto! Shop! Eh, ok! Adesso abbiamo 1050! Ottimo! Sei felice? Non sa, io me ne prendo... Io me ne prendo 300! Così prendiamo la cassa leggendaria! Ok, la prendo io! Vediamo! Io prendo quella epica, scherzavo, non mi bastano! Ecco, fatto! 43, 34! Una donna quanta roba che ho preso! Ok, ha preso davvero tanta roba! Eh sì, c'è un sacco di roba in più! Oh, mamma mia! Sai cosa? Me ne prendo un'altra! Di leggendari, va bene? Ma cos'è questo? Vai, vai! Ah, poi ci sono anche le cose che possiamo utilizzare! Oh, vabbè, non importa! Leggendario! Vai! Oh! E così abbiamo tanti blocchi di costruzione! Porca miseria! Adesso sì che li abbiamo! Sì! Possiamo costruire tutto quello che vogliamo praticamente adesso! Ok, molto bene! Allora, vediamo cosa possiamo costruire! Intanto, rompiamo tutto questo che non ci serve, Zoe! Cioè, dai! Ok! Che scatole! Ok, bene! Allora, vediamo un attimo! Abbiamo comunque sette blocchi di legno che a noi non importa! Usiamo i blocchi di legno di più! Vabbè, però se vedi, ci stanno... La pietra, siamo la pietra! Praticamente ci sta la strength! Ah, eh... La strength del blocco! Il più dopo la lente di mino! Ah, vabbè, è la pietra! La pietra va bene, dai! Ok, mettiamo la pietra! Ah, ma io non ce l'ho quella, mi sa! Come non ce l'ha? Ah, tu... Ah, perché non abbiamo i blocchi insieme, noi! Eh, no! Ah, ok! Allora, faccio una cosa! Io faccio una parte del blocco e tu la fai... Quanto lunga la fai? Eh, aspetta, aspetta! Facciamo così, ecco qua, perfetto! E poi in questo modo! Ok! Ok! In questo caso... No, no, no! Al contrario! All'altro lato! All'altro lato! All'altro lato! Ok, così! Che cosa devo fare? Qua, qua! Questo lo sto facendo io, non vedi? Ma che devo fare? L'altro lato del blocco, con i materiali che hai! Ok? Ah, no, no, no! Cioè, ma! Devi fare la... Oh, mamma mia! Devi fare l'altro lato, ok? L'altro lato! Eh, perché mi dici no? No, no! L'altro lato! E poi non capisci che questa parte va in mezzo e non si vede! E che devo fare? Oh, mio Dio, Zoe, veramente! Devi fare... Devi fare l'altro lato del blocco! Fallo, vai! Questa parte qua... Da qua! Ok? Vai! Fallo! Oh, finalmente! Mamma mia, ci siamo riusciti! Ma che ne so io! Ok! Quanto deve essere lungo qua? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Lo facciamo bello alto pure! Uno, due, tre, quattro... Così almeno le cose che prendiamo a prendere in pieno non le prendiamo letteralmente in pieno... Ecco, ok! Eh, Sbri, ma non possiamo fare una barca vuota, mica vi impasto moltissimi blocchi! Come non possiamo fare la barca vuota? Sì che possiamo fare la barca vuota! In realtà sì, in effetti... Allora... Anzi, è meglio se la facciamo vuota perché se la facciamo piena poi... Come fai? Eh no, se la facciamo piena, più blocchi prendiamo... Cioè, tipo, più ostacoli prendiamo, più uno si spacca subito... Dici... Eh no, in realtà... Eh certo! Sì, sì, voglio fare un cacchio di cubo che hai io... Ok! Voglio fare il cubo più grande di Roblox! Quindi seguimi, va bene? Oh, mia mente, ogni volta a parlare... Comunque, avevi visto che si ribalta, quindi dobbiamo stare dentro la barca noi... Finca la barca, bah, lasciala andare! Dico bene? Certo! Ok, bene, allora, aspetta... Finca la barca, mamma mia... Ma che scatole, mamma mia! Io mi sto annoiando nel mettere i blocchi così perché... Il problema è che non si mettono perfettamente... Ma tipo, sono traslati ogni volta e devi metterli perfettamente... Eh, sì! Cabolette, ecco, fatto! Non puoi tipo... Eh no, non puoi, peccato! Pensavo che potevo, non lo so, prendere... E poi la cosa brutta è che non ho voglia di compenetrarli... Perché poi ne usi troppi rispetto a quelli che potresti usare... Eh, esatto! Ok, perfetto! Io sto facendo il pavimento, sto sbagliando? No, è giusto, va bene! Ok, perfetto! Allora, continuiamo a fare questo lato qua... Ok... Sto finendo i blocchi! Eh, zio, io pure, sono a 30 blocchi di pietra qua e la roba lì... Ok... Oh, 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 cacchio! Ecco fatto! Allora... Ci si arrangia come ci si può arrangare? Infatti, secondo me, fin qua ci siamo, eh! Devo dire... Te lo amare o te lo chiedo? Te lo posso dire? Te lo amare o te lo chiedo? Allora, secondo me... Allora, l'hai innalato o l'ho fatto? Ora il tuo è un po' diroccato... Mi dispiace... La parte del cervello intelligente e la parte del cervello quella creativa... Il problema è che ho quasi finito... I cannoni! Come faccio a girarlo? Oh, mio Dio! Aspetta, ora di qua... E ora di qua... No, perché? Perché sono belli... E poi c'è anche palloncini... Ma poi non va... Non va messo così, poi, il coso, no? Palloncini... Che servono i palloncini? Niente... Che serve questa l'è? Perché c'era l'è? Un'interruttore? Che serve? È l'interruttore? Non lo so! Ah, per attivare il cannone! Ah! Ficata! E il palloncino si attiva pure... Ah, così almeno si è... Si è fatto scoppiare... Wow! Wow! Che figa! Così possiamo distruggere i nostri nemici che abbiamo a fianco, Zoe! Sì, sì! E poi c'ho la bandiera! Ma che c... La bandiera a casa! Ha riuscito a riuscire a fare un launcher boat? No, 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 no! No, io non ho più blocchio! Lo facciamo! Mettiamo una porta qua! Perché serve una porta! Che dà verso il niente! Anzi, no, facciamo una cosa! Lo simito con un po' di blocchi! Faccio così! Ok, quanto è grande questa porta? Tre blocchi? Età? Tre blocchi! Ok, perfetto! Molto bene, così! Ok! La fine finestre! Cosa serve? La fine finestre? No, abbiamo un tecno! Sta zitta! Era una casa molto carina! Senza soffitto! Vediamo dove andiamo! Sì, ma io non ho più blocchi! E pazienza! Io, l'importante è che la mia parte ce ne abbia... Ah, Gioia, ma ho un botto di blocchi qua! E mettili qua, cavoli! Cosa sto aspettando? Scusami! È che li ho notati dopo! Ok, bene! E' un cubo! Cioè, è proprio un quadrato questa barca! Perfetto! Proprio come lo volevo io! Ok, continuiamo a metterli! La prendiamo! Io ho bellissimo! Qua dobbiamo... Sono curiosissimo di vedere, ragazzi, come andrà in mezzo a tutte quelle cose! E facciamo meno di quello che abbiamo fatto! Dobbiamo veramente vergognarci! Ok! Anche perché quello che abbiamo fatto era stato praticamente... Non lo so come l'abbiamo fatto! E' stato una roba di bocchettini! E' stato! Ok! Settiamo un tavolino! Continuiamo! Io continuo a mettere i blocchi! Sperando che... Sì, mi basta una voglia! Perfetto! Oh, vedi, Zoe! Ci servivo io per mettere questi blocchettini! Boqueton! Ecco, fatto! Oppala! Oppala! Ok! Sto mettendo cosa c'è? Ok, sì, lo sto notando! Ok, perfetto! Qui siamo! Anzi, non 14! Aspetta, è simmetrico! Sai cosa? Posso fare una cosa? Aspetta che te lo si sta! Togli questi blocchi qua per terra, così almeno li metto solo quelli, capito? Metti, togli quelli per terra! No, no, no! Quelli, tipo il pavimento, questo qua, il pavimento! Ecco qua! Così almeno lo faccio tutto in questo modo! Mentre sono seduto, io costruisco! Zoe, c'è un blocco di erba che fuoriesce! Lo puoi sistemare, per favore? No! E allora rimane una cacca la tua parte! Allora, hai visto? Ora sì che ci siamo, mamma mia! Ora sì che voglio... Oh, togli questa cosa! Togli questa cosa! Vedi qua? Toglilo, toglilo! Toglilo! Deve essere perfetta la nostra barca! Oh, ok! Ok, ora ci siamo, Zoe! Mamma mia! Siamo messi benissimo, Zoe! È asimmetrico, però va bene! Di cavoli andiamo! Vediamo! Aspetta! Magari posso mettere altre porte! Così ci... Sì! In realtà è per protezione, noi siamo queste porte! Ok, perfetto! Ok, aspetta, aspetta, aspetta! No, Zoe! Una roba! Attenta! Ma cosa fai? Su! Aspetta! Ma che stai facendo? È posto, voglio, voglio... Aspetta, non c'erano più i blocchi lì! Eccoli qua, gli altri blocchi! Ora vi faccio vedere, Zoe! Ora faccio... Vai, vai! Così, cosa così, li chiamo di guerra! Vuoi vedere, vuoi vedere! Eh, però vetti i dritti! Sì, lo so, lo so, voglio metterli dritti! Ecco, fatto! Eh... Ecco, fatto! Ci siamo, Zoe! Tutto pronto, tutto preparato! Ah, perfetto! Andiamo! Vuoi andare? Sei sicura? Sì, sì, additi, però! Ok, cassa tu... L'ho messa a contrattare... Va bene, comunque, andiamo! Ok, pronto, Zoe! Andiamo! Sì! Lancia la barca! La lanci! Che la fai? Ah, devo farlo io! Ok, andiamo! Sì, è saltato il proprio toscato! Gira, gira, gira! Sinistra, sinistra! Ma io non la posso guidare! Come si guida? Mi sa che non la possiamo guidare! Come non la possiamo guidare? Come hai fatto prima? È col molto schifo, ma era piccola! Adesso è grande, deve andare da sola! Oh mio Dio! Vedete il frenzico a mettere un... È un camicazzo, questa cacchio di barca! No! No! Dai, è vero che possiamo far esplodere i blocchi? È vero, almeno quello! Dai, dai, proviamo a far esplodere i blocchi! Sì! Oh, ma no, che figata! Ma è bellissimo così! Oddio, sto per buttarmi! Io in questo gioco sono molto brava, però... Io lo sto notando che non è mai... Che hai fatto scappare il tuo motoscafola! Ma non c'è niente! E ci sono dei modi per fare le barchette! Zoe, ma non ci stanno qua, nulla, non c'è niente! Ma? Mi sa che stiamo ancora caricando! No, Zoe! E no, vedi che sta ancora caricando tutto! No, che sta caricando, Zoe? Stiamo andando avanti! Oh, ma io vedo che sta caricando... Perché cambiano i cosi! Buono, buono, buono! Non far ricaricare, così andiamo avanti noi! Vedi che stanno caricando! Zoe, farò parla! Sto arrivando la barca! Oh, mamma mia! Oddio! Eh, vabbè, ora riprendiamo in pieno queste cose! Oh, cavolo! È per forza! Per questo l'ho detto... Per questo io ho messo cosa a caso davanti, che almeno attutisco! Certo! Ecco fatto! Pian pianino! Distruggiamo la nostra barca! Eh, però la cosa buona, sai cos'è? È che è fatto di pietra e di tutti i materiali fortissimi, quindi... Dobbiamo andare avanti proprio così, proprio speronando tutto! Ok! Ok, stiamo per arrivare al prossimo livello! Oppala! Oh, cos'è? Ah, ok, è sempre quello di prima! È quello di prima! Oddio, dobbiamo usargli, Zoe! Dobbiamo sconfiggere i mostri! Non penso che esplodano! Sì, 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 esplodano, secondo me! Vai, vai, vai! Ah! No! Siediti, siediti! Dobbiamo proteggerci, Zoe! Moriremo, moriremo! Eh, lo so! Moriremo! Eh! No, non li prendono! No, sono inammazzabili! Ma, Sbri? Oh, ci sono! Che c'è? La mia barba! Mi sedere! Mi sedere! Mi sedere! No! No! Attento! Dai, 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 dai! Siamo andando in sé! Oh, finalmente! Oh, che figata! Quello del cinema! Madonna, che casino, vero, tutto questo! Oddio! Oh! 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 Sono sotto la barca! No, finca la barca! Oh, no! Ombri! 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 Mi raccomando, ragazzi, per altre nostre avventure, cliccate i video che sono appena comparsi! Iscrivetevi al canale per non perderti altri nostri video! Ciao, ciao! Ciao!